Azzone. Ciao. Sono Elisa e sto andando dai miei per le vacanze. Di che cosa si cipa il clown di It? Bambini. Paura. I bambini sono solo un mezzo. Pennywise mangia la loro paura. Andate in strada e cercate aiuto. Non c'è nessuna strada. Non siamo i primi. Che cos'è? È la leggenda di Osso Mastrosso e Carcagnosso. La gente moriva di fame e loro promisero di salvarli. Ma non si è mai niente per niente. Ma perché nessuno lo dice? Questo è proprio il classico film dell'horror. Sai come si esce da questa foresta? Che vuol dire che non è una foresta? Something's up with her. Tu sei la più preziosa qui. Che vuol dire che non è una foresta? Che vuol dire che non è una foresta? Che vittura? Te vuol dire che non è una foresta? On potằngpo quelle che ci sono in un'istitico film? Grazie a tutti.